Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, 7.03 lunedì 12 febbraio, bentornati a Good Morning Milano Siamo a Milano, eh sì 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 sì, siamo tornati, eccoci qua, come state? State bene? Cosa avete fatto questa settimana che io non sono stato qua a Milano ma sono stato a Sanremo? Ci avete ascoltato, vero? Mi auguro di sì, mi auguro che avviate passato una bella settimana È finita, è finito quel tritacarne in cui mi sono ritrovato catapultato ma in cui per fortuna avevo da raccontare a voi tutte le mattine quello che succedeva Noi siamo qua, comunque se volete saperne un po' di più, se avete qualche curiosità sulla settimana appena passata 331-78-535-555 Ma, 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 potete anche scriverci per farci sapere cosa farete oggi Dove andrete, chi vedrete, che cosa farete per lavoro oppure per studio Insomma, tutto quello che vogliamo raccontarci, tutto quello che vogliamo condividere in questa mattinata milanese lo possiamo fare dalle 7 alle 9, tutte le mattine qui su Crystal Radio all'interno di Good Morning Milano 331-78-535-555 Sono un po' stanchino, devo dire la verità, è stata una settimana abbastanza lunga e con orari, pensate che andavamo a letto intorno alle 2 di notte e poi la mattina alle 6 la sveglia per poi essere con voi davanti al microfono per raccontarvi quello che è successo Ma noi siamo qui per fare una settimana insieme, per leggere i giornali per passare una mattinata in compagnia qui su Crystal Radio e ora Mahmood e Blanco con brividi dall'anno scorso e poi dopo partiamo ancora di quest'anno E questo era Mahmood e Blanco dallo scorso Sanremo i vincitori dallo scorso Sanremo poi ovviamente sentiremo dal prossimo blocco anche le canzoni di questo Sanremo ma così volevo iniziare con una marcord diciamo cosa di nostalgia, come operazione nostalgia 331-78-535-555 finalmente l'ho parlato a memoria, l'ho detto a memoria non so se vi siete accordi che l'ho detto a memoria buongiorno e buona settimana Fabio e bentornato a Milano dopo la settimana Sanremese una buona settimana anche a tutti quelli in ascolto torniamo alla normalità questo è Alberto che ci scrive un whatsapp appunto al 331-78-535-555 oggi ai giornali davanti a me anzi tanti auguri a tutti coloro che festeggiano il Capodanno cinese oggi primo giorno, anzi secondo giorno mediere al Capodanno quindi secondo giorno, primo lunedì dell'anno del Drago il Drago, andiamo a leggere su Repubblica Milano il Drago e l'inno di Mameli così il Capodanno cinese diventa a Milano la festa di tutti ebbene sì perché è davvero una festa abbiamo visto migliaia di persone in piazza Sempione per festeggiare l'arrivo dell'anno del Drago la festa all'arco della pace per l'anno del Drago il sindaco Sala dice qui sosteniamo l'apertura a culture diverse dalla nostra da via Paolo Sarpi siete arrivati all'arco della pace fermatevi, l'anno prossimo non possiamo mica darvi il duomo così ha detto appunto Beppe Sala chiamato sul palco delle celebrazioni del Capodanno cinese tantissime persone hanno iniziato qualche anno fa in Paolo Sarpi adesso piazza Sempione, il corso Sempione, l'arco della pace strapionigente davvero non si sa cosa bisogna fare San Siro il prossimo anno forse per fare il Capodanno cinese una festa che diventa tradizione e poi bello è quello, quanto è bella Milano per questo il Capodanno cinese diventa tradizione milanese in un certo senso che veramente si aspetta si aspetta di che arrivi questo di solito giorno nei primi di febbraio per poter andare a festeggiare andare a provare le grandi novità che si trovano magari dal punto di vista culinario in quella di Paolo Sarpi io ad esempio ieri ho mandato messaggi anche ad amici cinesi per fare gli auguri, li ho incontrati per strada gli ho fatto gli auguri, quindi insomma carina come cosa e soprattutto dà l'idea di quanto la nostra città sia davvero una città che comincia a essere veramente una città da melting pot dove si comincia ad aprire anche ad altre culture, anche inserendo queste culture nella nostra normalità e quindi questo è molto molto interessante per una città come Milano che davvero è vero che se facessimo questo così rimu' festa tutti i giorni perché con tutta la moltitudine che abbiamo Milano bisogna poi cominciare a capire un attimino come gestirci però insomma il Capodanno cinese sta diventando davvero un appuntamento fondamentale sul calendario dei milanesi non solo come eventi ma anche come festeggiamenti, come tradizione come momento anche per avvicinarsi magari a una cultura quella cinese che vediamo troppo spesso lontano che rileghiamo solamente al ristorante cinese o all'involtino primavera ecco c'è molto di più e magari momenti come quello del Capodanno cinese possono aiutarci a capire meglio questo tipo di cultura invece una cosa che non capiremo mai ma per fortuna qualcuno ce lo può spiegare bene è il traffico e questo lo può fare chi? Luce Verde che adesso ci dà un'immagine, una fotografia perfetta, reale, giusta, in tempo reale del traffico su Milano e città metropolitana in questo momento alle 7 e 12 minuti su Crystal Radio qui appunto a Gulmoni Milano ascoltiamo Luce Verde Fiorella Mannoia, Mariposa questa qui per me è la mia personale canzone preferita di questo festival ma devo dire che il livello anche delle altre non è niente niente male al netto tutte le polemiche che non ho proprio voglia di stare ad ascoltare o iniziare a fare diatribe su quello e invece andiamo a leggere i giornali allora Repubblica Milano si parla di edilizia sapete no? il tema è quello delle costruzioni che su cui la procura sta aprendo dei fascicoli perché sembrerebbe ci siano magari stati dei problemi di concessioni, cessioni, diritti nella costruzione in certi luoghi soprattutto ad esempio in alcuni interni diciamo non su strada ma internamente diciamo dentro dei cortini più o meno insomma detta male così da lì però il discorso si sta ampliando e cosa dice allora edilizia leggo appunto da Repubblica Milano il titolo è edilizia il comune difende le scelte quindi per ora il comune difende quello che è successo dice le regole sono quelle semmai andiamo a rivedere un attimo le regole cerchiamo di capire cosa fare meglio poi a fondo su San Siro dice e salvare San Siro è una partita aperta le indagini della procura sull'urbanistica e il Milano a San Donato queste sono le linee del sindaco sui due dossier caldi appunto su San Siro ad esempio il sindaco Sala tira dritto sulla ristrutturazione di San Siro e sulle dossier urbanistica ieri il sindaco Sala ha detto in sintesi che va avanti per la sua strada da una parte dopo che il Milano ha perfezionato l'acquisto dei terretti di San Donato sui quali sta puntando di costruire il nuovo stadio il sindaco ha rinnovato la sua proposta di restare a Milano ristrutturando il Meazzi ha detto io non perdo la fiducia nella possibilità di riuscire a salvare San Siro credo che sia una partita ancora ampiamente aperta il tema è che non è solo San Siro cioè bisogna stare a parlare meglio anche di quello che sono invece il tema dietro sull'edilizia su questi fascicoli aperti da procura è interessante vedere come i colleghi dei giornali diano priorità a San Siro piuttosto che l'altra situazione devo dire, devo dire anche perché non è semplicissimo capirla l'altra situazione cioè è molto tecnica e secondo me forse bisognerà anzi aspettare un attimino ad entrare così nel dettaglio facendo fare il lavoro da una parte al comune dall'altra alla procura che si parlino che capiscano bene così che poi dopo si possa andare veramente a capire che cosa che cosa è successo chi ha aperto cosa chi ha dato chi ha dato i permessi a chi insomma tutto quel tema lì che bisognerebbe stare a vedere anche il Corriere Milano anche il Corriere Milano parla di San Siro su Sala sul futuro di San Siro dice appunto sono ancora fiducioso per la prossima settimana è atteso un incontro tra il sindaco e i due club Repubblica parlava del Milan il Corriere parla invece dell'Inter e dice i nerazzurri intenzionati a proseguire con il progetto a Rozzano ricordiamo che non lì ancora un po' leggermente più fumoso almeno sembrerebbe o magari semplicemente un po' più riservati rispetto al Milan e quindi la situazione dell'Inter si sa in maniera meno dettagliata rispetto a quella del Milan che invece ha già fatto dei passi un po' più avanti e soprattutto si è espresso spesso anche appunto a favorevolmente il sindaco di San Donato milanese su questo progetto di portare lo stadio a San Donato andiamo avanti con la musica Angelina Mango stravince questo festival ma lo stravince nel senso che proprio vince anche col favore del pubblico anche nonostante sappiamo cosa è successo al televoto ma comunque una grande vittoria una grande emozione Angelina Mango la noia Angelina Mango la noia alle 7.22 qui su Crystal Radio sentiremo anche Giollier ve lo dico già è il prossimo pezzo non incominciamo polemiche inutili perché davvero è completamente inutile o la cosa anzi dico solo una cosa Giollier può non piacere può essere non capito come lo faccio io non lo capisco non è musica per me ma sa di fatto che comunque è la canzone più ascoltata su Spotify in Italia e la cosa divertente a tutti quelli che dicono eh a Napoli dicendo le cose no no la regione in cui è stato più ascoltato Giollier nelle ultime due giorni nel weekend appena passato è la Lombardia quindi smettiamo di dire che è un fenomeno che sta chiuso lì non è quello io l'ho difeso dal primo giorno nonostante appunto ripeto non sia il mio genere nonostante non mi piaccia per nulla la canzone ma non sono qui a dire mi piace o non mi piace se no non sarei in una radio ma sarei a casa mia col mio ipod perché sono vecchio con la mia cuffiette e il mio abbonamento musicale a qualcosa e mi ascolto quello che voglio mi ascolto De Grigori gli Intillimani e quel cavolo che volete ma non è questo fare radio in radio si mettono le canzoni che piacciono al pubblico e quelle che piacciono anche al DJ si fa un mezzo e un mezzo ok quindi vi la faccio sentire e la faccio ascoltare anche con molto piacere non prima di ricordarvi però che abbiamo un numero di Whatsapp che è il 331 7853 555 a cui potete scriverci a cui se mi scrivete se vi piace non vi piace non vi piace non vi piace non vi piace perché non mi interessa se invece mi dite cosa ne pensate tutto quello che è state le canzoni sono state sono le canzoni che escono da questo Sanremo invece quello ben venga nel senso se andiamo un pochino oltre il mi piace non mi piace so che non è facile so che è difficile anche io ci casco sempre in questo tranello perché poi ti dici come è che quella mi piace il film come è stato bello brutto cerchiamo di approfondire un pochino proviamoci almeno noi sono le 7 del mattino siamo qui mi avete fatto entrare in casa vostra avete voglia di fare la colazione insieme a me cerchiamo di fare qualcosa di costruttivo ascoltiamolo allora Joliet Ipme Tupet alle 7 e 25 minuti qui su Cristal Radio Good morning Milano Apnea Emma e l'apnea è quella che che c'è dopo non aver dormito per una settimana praticamente comunque allora questa era apnea di Emma sempre da Sanremo questa ragione ovviamente se nel primo lunedì dopo Sanremo l'anno dovrebbe iniziare il lunedì dopo Sanremo nelle radio l'anno dovrebbe iniziare oggi oggi è il capodanno delle radio tra parentesi ha a che fare con il capodanno cinese quindi benvenuti nel nuovo anno radiofonico non deve essere così buon anno a tutti coloro che ascoltano la musica e la radio Sanremo è il capodanno alla fine di Sanremo fa iniziare un nuovo anno e nel frattempo al 331 7853555 grazie mille a Marilena che ci scrive ciao Fabio bentornato a Milano grazie a te di avermi aspettato qui grazie per le dirette le informazioni e tutto quello che ci hai trasmesso da Sanremo ma dovete solo ringraziare Cristal Radio che mi ha permesso di fare questo e comunque per me cioè dice lei non per me Fabio Anzi ma per lei Marilena dice comunque per me doveva vincere Gali guarda adesso lo devo anche ascoltare quindi cosa vuoi di più adesso proprio fra pochissimo ascoltiamo Gali non prima di ricordare che oggi è lunedì 12 febbraio cosa è successo nella storia una roba che sembra una stupidaggine ma se oggi siamo qui a poter fare quello che facciamo raccontarvi le cose non avere paura di farci troppo male in certe situazioni paura di morire per un piccolo taglio sul dito cose del genere beh ecco perché nel 1941 oggi fu fatto il primo test della penicillina su un paziente quindi capite insomma quando pensiamo alla nostra epoca quando pensiamo stava meglio quando stava peggio quando siamo nostalgici la musica vuoi mettere i Beatles ok no ma vuoi mettere la letteratura ma vuoi mettere ecco quando pensate a queste cose tutto bene va bene mamma è tutto potete dire quello che volete ma pensate che prima del 1941 non si sapeva nemmeno lontanamente cosa fosse la penicillina una di quelle cose che ci ha salvato la vita e continua a salvarcelo salvarcela ogni sacrosanto giorno quindi ripeto quando pensiamo che ah si stava meglio adesso l'epoca la società moderna signora sapesse mamma mia questi giovani d'oggi con i tatuaggi in faccia signora ecco no no pensate che nel 1941 oggi fu provato per la prima volta la penicillina su un paziente guardate dove siamo arrivati poi se il genere umano si sia all'altezza di queste scoperte non lo so a volte effettivamente viene un po' il dubbio però io credo che davvero dobbiamo sempre pensare a quello che diciamo ma soprattutto a essere grati grati del momento che stiamo vivendo compleanno anche o meglio sarebbe stato sarebbe stato il suo compleanno per chi per Franco Zeffirelli grande regista nato nel 1923 cioè 101 anni fa sarebbe stato ovviamente un grandissimo compleanno per Zeffirelli oggi appunto che avrebbe fatto il suo suo compleanno morto nel 2019 nato appunto il 12 febbraio del 1923 questo è un po' le cose che sono successe oggi è scomparso soprattutto nel 2000 invece moriva oggi Charles Schultz chi è Schultz non mi viene in mente niente scriveva cioè disegnava scriveva delle strisce è colui che ha inventato i Peanuts sì colui che ha inventato Snoopy Charlie Brown e tutta quella bellissima compagnia che a molti di noi ha fatto grande compagnia appunto scusate il gioco di parole durante la nostra infanzia e non solo e adesso andiamo con Gali Casa Mia e questo era Gali con Casa Mia direttamente da Sanremo direttamente qui su Christian Radio insomma tutto quello che vi abbiamo raccontato questa settimana ha a che fare ovviamente con Sanremo ma non dobbiamo dimenticarci alcune cose ad esempio ringrazio tantissimo i nostri ascoltatori che al 3317853555 ci ricordano di tornare a parlare delle cose che succedono anche a Milano ad esempio che cosa lo sciopero dei treni di oggi treni ho detto quindi non incominciate ad andare in sbattimento se dovete prendere la 78 se dovete prendere il 15 quelli passano non c'è problema sciopero dei treni lunedì 12 febbraio orari garantiti treni Italia Italo e motivazioni dello stop ad esempio sto venendo qui su fanpage che ci spiegano un po' tutto quanto dalle 9 alle 17 detto proprio male dalle 9 alle 17 8 ore lo sciopero è questo cioè la fascia dello sciopero nazionale è questo poi nella fattispecie ci sono comunque le fasce garantite quindi potete tranquillamente andare anche sul sito di Trenitalia o sul sito di Trenord e vedere quello che è stato mi piace quando vi ho detto ma non è che io devo dire se mi piace o non mi piace una canzone giustamente invece voi l'avete fatto ma è giusto sono io quello che non devo sono un giornalista non mi devo limitare a dire mi piace o non mi piace invece voi ascoltatori del popolo di Good Morning Milano è giusto che lo facciate e infatti al 33178535555 è arrivato un più ascolto il brano di Gali e più mi piace e quindi insomma è vero è così che funziona due di seguito che dicono che Gali beh ma ragazzi noi siamo la verità è che noi Gali ci piace anche perché è milanese cioè ci piace perché porta alta la bandiera della nostra città e di tutto quello che dicevamo anche prima sul cardano cinese cioè la nostra città multiculturalmente coesa che magari sui giornali invece sembra sempre molto disgregata c'è questo racconto spesso e volentieri delle periferie disagiate delle periferie lontane dell'immigrazione del milanese quando invece poi quando si esce di casa si va a parlare con chi sta sotto casa chi sta al bar qua fuori chi va a prendere le focaccine dal paettiere alla fine poi Sam Tic la stessa roba la faccia può essere più colorata o meno colorata si può essere più alti più bassi si può essere biondi o con gli occhi a mandarla ma alla fine poi siamo tutti a dover navigare far andare la barchetta in questa città che è Milano che ci ha accolto da una parte ma che poi sappiamo benissimo quanto ci chieda in cambio e non tutti possono farcela molti ce la fanno molti altri ahimè non riescono ma per colpa di questa città che invece dovrebbe aiutare anche chi non ce la può fare e io dico sempre Milano è quella città che ti chiede tanto in cambio ti dà delle cose ma ti chiede veramente tantissimo però come dire si può fare non è sempre facilissimo non è sempre facilissimo quindi anche lì non diamo le colpe vengo di lì vengo di là le difficoltà di questa città in questa città ci sono veramente ad ogni angolo e ad ogni quartiere è tornata la nostra città ad esempio la prossima cantante Rose Villain che è nata qui si è andata a New York per anni a fare la sua vita negli States ha imparato tanto ha preso tanto ma poi è tornata qui è tornata qui anche molto felice l'ha detto anche in conferenza stampa a Sanremo perché l'Italia gli ha dato delle possibilità e lei le ha volute cogliere tra queste e quelle ad esempio di fare una bellissima carriera musicale che è appena iniziata ma che speriamo possa andare avanti ancora per anni e come biglietto da visita per questo Sanremo ha voluto portare la sua click boom e allora Rose Villain con click boom Rose Villain click boom boom e sta adesso per la mia vroom 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 quella lì è la vroom del mh amps nella mh cioè la versione moderna di quella canzone lì vedete che alla fine nella musica nulla si crea nulla si distrugge come le grandi leggi della fisica capito quella roba lì comunque Rose Villain non c'è niente da dire nel senso che uno di quei fenomeni di questo San Siro ma in realtà della musica in questo momento di che tu arrivi lì e dici ma chi è questa la conoscevo già ma per fortuna mi venirebbe da dire ma molti si sono andati ma chi è questa ma lui la sed i bunker 44 c'è tutta gente che mi viene da dire giustamente una persona che ha più di 35 40 anni può non aver mai incrociato la propria vita visto che ricordiamoci sempre noi viviamo nelle nostre bolle fatte dai social fatte dall'algoritmo di come si chiama Spotify che ci dice che cosa ascoltare e cosa no da quello che ci piace o non ci piace quindi insomma è difficile anche riuscire a capire davvero bene che cosa che cosa abbiamo che cosa c'è in giro in questo momento nella nella presentazione delle musiche della canzone comunque niente tutto questo per dire cosa che i giovani hanno le loro canzoni come sempre stato noi magari non le conosciamo ma comunque non hanno meno dignità per parlare di giovani invece vi diciamo questo che invece sono state aperte o meglio chiuse le iscrizioni ai licei di Milano il classico perde classi e invece il record di richieste per gli indirizzi sulle scienze umani bene lo scientifico chiuse le candidature ad esempio da Tito Livio dicono il classico è bollato come elitario il manzoni dice bisogna modificare il curriculum insomma il classico è considerato appunto una scuola troppo d'elite pensate che Alparini il grande liceo Parini ci sarà una sezione in meno eh sì anche il Parini si rischia la perdita di una sezione e sono poche le speranze anche all'Omero Russell quindi pensate come ormai è cambiato anche il anche anche questo comunque niente allora adesso andiamo con un po' di musica questa è Dargent Amico con Onda Alta Dargent Amico Onda Alta Dargent che tutta la settimana abbiamo tirato in mezzo di brutto penso che sia io che l'amico Andrea Cherchi l'abbiamo cercato di pungolare su un tema che in realtà è molto distante da quello di cui parla la canzone sappiamo appunto Onda Alta è una canzone che ha a che fare con i viaggi che molti devono compiere all'interno soprattutto del nostro mare il mare Mediterraneo per raggiungere l'amata meta dell'Europa partendo da dei paesi che hanno delle grandi difficoltà e in questo viaggio appunto bisogna stare attenti soprattutto a questa Onda Alta che può essere il più grande ostacolo a un futuro rosio magari o comunque almeno ad un futuro appunto nel nostro paese nel nostro continente questo per dirvi cose che invece ah si scusate mi ero perso nei meanti della mia mente questo per dirvi che Dargen a Sanremo ha messo in piedi una bellissima iniziativa ha preso un'edicola e l'ha fatta diventare l'edicola Dargen l'edicola Dargen dove ogni giorno venivano pubblicate pubblicato un opuscolo diciamo che era un fumetto anche che raccontava un tema legato appunto alla sua canzone e anche era molto bello era molto floreale c'erano anche questi fiori si poteva ti regalavano un fiore ogni volta che tu andavi lì quindi insomma molto molto interessante ma è stato interessante pensare all'edicola in sé anche perché io che arrivavo da Milano e arrivavo da una settimana in cui abbiamo visto notizie molto brutte sulle edicole milanesi nel senso che cosa succede? a Milano chiudono le edicole meno di mille edicole presenti sul suolo milanese e sappiamo già che ci sono una calendarizzazione di chiusure nel mese di marzo di almeno altre quasi dieci edicole vuol dire che insomma scendiamo ben sotto le mille unità questo ha fatto il paio con Andrea Kerchi che da Milano mi chiedeva informazioni e che anche lui ha detto ragazzi qua stanno chiudendo abbiamo visto un bellissimo un interessante filmato di Andrea Kerchi con sempre più edicole con scritto vendersi cioè quindi chiuse con scritto vendersi ma cosa si può fare? come si può migliorare? che cosa potremmo fare per ammodernare un luogo che effettivamente non ce n'è più tanto bisogno perché insomma i giornali poi capiremo se è buono o non buona questa cosa ma se ne vendono di meno e se voglio me li leggo online quindi non vado in edicola ma se non vado in edicola non ho il contatto col territorio non ho il contatto con i quartieri i quartieri perdono dei presidi interessanti di socialità e di riferimento all'interno del proprio territorio e allora insomma diciamo che io e Andrea stiamo cercando di tirare un po' in mezzo Dargen Dargen se ci stai ascoltando ci piacerebbe fare una chiacchiera soprattutto del perché hai scelto di fare un'edicola cos'era l'edicola Dargen nella tua testa cioè perché un'edicola e non un corner oppure un negozio uno store un temporary shop no hai voluto fare un'edicola questo vuol dire qualcosa cosa ci volevi raccontare perché non ce lo vieni a raccontare qua perché non ci dici come mai l'edicola molti che ascoltano la tua musica sono di una generazione che non hanno forse mai sono mai passati per un'edicola se non per comprare magari le figurine panini o quelle delle Winx non so adesso se viola sono le Winx quello che vanno voi giovani in questo momento ormai viola è fuori età anche viola per le figurine delle Winx è un troppo vecchio infatti sono rimasto anch'io indietro comunque insomma l'edicola 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 Dargen l'edicola Milano che chiudono perché che cosa che cosa ci vuol dire questo messaggio non so Dargen noi siamo qua ad aspettarti e adesso andiamo avanti con la musica sempre da Sanremo loro sono i The Chorus una ragazza un ragazzo no scusate un ragazzo una ragazza o forse erano due ragazze tre ragazze comunque sentiamo The Chorus Luna Pop con 50 special alle 8 e 11 minuti Crystal Radio Good Morning Milano inizia adesso la nostra seconda ora in mia ma soprattutto vostra compagnia dobbiamo abbiamo parlato di Sanremo abbiamo parlato di tante cose ma abbiamo ancora due momenti importanti da fare questa mattina che sono è lunedì e quindi è il buon lavoro di Filippo Poletti e poi sentire che cosa questa settimana ci aspetta nella programmazione di Senti Questa che è appunto con Ambrogio Curti il programma che segue noi che ci racconta la musica anzi chissà quante cose avrà da dirci anche su quello che è stato Sanremo nella storia insomma chissà quante robe dalla bravissima e preparatissima voce di Ambrogio Curti che appunto sentiremo poco dopo di noi qui sempre su Crystal Radio alle 9.05 più o meno dopo il giornale radio grazie a chi ci sta scrivendo al 3317853555 e un messaggio che secondo me è molto interessante e soprattutto perché fa capire come dovremmo sospendere il da una parte giudizio ma anche la critica comunque l'idea delle canzoni di Sanremo dopo almeno 4-5 ascolti magari anche differenziando la sorgente del nostro ascolto cioè una volta si dà la radio una volta dalla tv una volta dal cellulare una volta in cuffia una volta cantando sotto la doccia al 3317853555 arriva questo messaggio l'ascolto dei brani in radio è differente rispetto a quello in tv dove probabilmente l'immagine toglie e o aggiunge allo stesso tempo è vero devo dire che questa mattina poi io qua in studio in cuffia mi accorgo che ci sono delle situation abbastanza particolari che magari ti eri perso guardandolo invece ascoltando ti accorgi di doppie linee di bassi di sonorità che magari avevi perso e apprezzi o magari disprezzi devo dire che in più delle volte è un un più un plus non è un malus è un bonus è un dono anzi che viene fatto alla canzone in più delle volte ti accorgi che la canzone è meglio di quello che avevi sentito in televisione in più poi c'è questo fattore che secondo me è proprio psicologico antropologico proprio fa parte di noi stessi del riascolto quando riascolti una cosa che entra nella testa sei già pronto a riascoltarla e quindi la raccogli meglio diciamo che la digerisci riesci a gestirla meglio ha marinato un po' nella tua testa e quindi riesci a digerirla meglio e a quel punto poi magari ti piace anche sono come quei cibi un po' magari troppo piccanti ma poi dopo due o tre volte che li mangi dici ma però non sai che non è niente male al primo acchitto è un po' troppo piccante ma poi mi piace e insomma una canzone che invece vi devo dire la verità fin dal principio mi ha stupito e mi ha stupito positivamente ma mi piace tanto lui proprio lui è una bella anche lì poi bella persona non te lo posso dire non lo so non l'ho conosciuto di persona non sono andato a mangiare piccanti insieme a lui quindi non lo so però è un'immagine pulita quella che dà il cantante Alfa bel nome Alfa comunque beh ecco l'immagine che dà Alfa è una bella immagine e la sua canzone devo dire mi ha stupito fin dal primo ascolto e quindi ce lo andiamo ad ascoltare adesso con vai e vai 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 Paolino non lo ricordate vai 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 non lo ricordate non entriamo in cose che poi devo stare a spiegarvi non ho tempo anzi buongiorno anzi buon lavoro è quello che ci dice tutti i lunedì il bravissimo Filippo Poletti top voice di LinkedIn che ci racconta le buone notizie e notizie importanti sul mondo del lavoro e quindi buon lavoro Filippo buon lavoro a tutti la prima parola chiave della settimana è serenità e se la nostra azienda attivasse dei percorsi di supporto psicologico in caso di gestione di situazioni familiari complesse accade a Nestlé Italia all'interno del nuovo pacchetto dedicato al welfare la possibilità di portare in ufficio anche i figli piccoli benvenga dunque l'armonia tra vita familiare e lavoro la seconda parola chiave della settimana è pregiudizi e se la parità di genere fosse promossa coinvolgendo il 100% dei manager in percorsi di formazione per il superamento di eventuali pregiudizi inconsapevoli accade a Birra Peroni che ha dato vita al manifesto sulla parità di genere l'ha fatto coinvolgendo tutta la popolazione aziendale benvenga dunque la parità di genere a partire dall'ascolto dei dipendenti la terza e ultima parola chiave della settimana è offerte di lavoro interessante la nuova sezione su LinkedIn o LinkedIn il social media è dedicato al lavoro questa nuova sezione si intitola esplora con le raccolte di offerte di lavoro all'interno di questa sezione si può ampliare la possibilità di ricerche di offerte di lavoro mirate in base per esempio all'equilibrio tra vita e lavoro e all'impatto sociale e appunto alla crescita professionale avanti tutta dunque con le ricerche mirate del lavoro che fa appunto per noi buon lavoro a tutti ed eccoci tornati 8 e 22 minuti avete sentito anche le buone notizie di Filippo Poletti top voice di LinkedIn questo appunto è tutto quello che ogni giorno vi possiamo raccontare qui su Cristian Radio su Good Money Milano e ogni lunedì invece ci sono le buone notizie di Filippo Poletti adesso noi dobbiamo andare in pausa perché dobbiamo mandare qualche consiglio per gli acquisti ma poi torniamo qui con voi come sempre qui su Cristian Radio per raccontarvi un po' quello che succede anche a Milano abbiamo qui i giornali ma soprattutto quando ritorniamo mi raccomando senti questa il sommario della settimana di Ambrogio Cuti con le canzoni che ascolterai poi prometto che non mettiamo adesso vediamo magari qualche canzone non disseremo ve la metto ok perché magari effettivamente siamo un po' esagerando quindi magari qualcosa non disseremo ve lo mettiamo è promesso e adesso andiamo invece con un cantante che io gli voglio bene proprio gli voglio bene fisicamente e personalmente anche se non lo conosco che è Diodato voce pazzesca genere per niente personalmente il genere mio ma io non posso che vuole di bene vinse Sanremo con una delle canzoni più belle dei Sanremo e non fece mai l'Eurovision quindi per quello io gli voglio bene è stato così sfortunato di vincere quel maledetto festival del 2020 che poi dopo qualche mese dopo avrebbe visto la sua partecipazione l'Eurovision unico Eurovision degli ultimi anni cancellato perché poi dopo quello del 2021 invece si riuscì a fare e lui non poté salire sul palco di svedese se non ricordo male in quell'occasione o in Olanda in Olanda erano nel 2020 e non poté fare questo splendido spettacolo che invece insomma Angina Mango farà a maggio in quel di Malmo difendendo i colori italiani all'Eurovision Sound Contest e quindi vi ho dato con Ti Muovi Depeche Mode My Favorite Stranger no non li hanno presentati a Sanremo anche se loro hanno solcato più di una volta credo una volta sicuro ma credo anche più di una volta il palco di Sanremo Depeche Mode sempre bello sentire un po' ma volevo un po' cambiare se no voglio far sentire sempre solo Sanremo così cambiamo un po' il sound così facciamo contenti tutti quanti anche se dire non guardo Sanremo non ascolto Sanremo insomma è un po' snob diciamocelo dai una settimana dura è la settimana santa molti la chiamano oppure il calvario anche se lo deve chiamare in altri casi la passione però poi è passata finita è passata la festa che abbatte l'usanto e quindi invece alle 8 scusate 9 e 05 inizierà una nuova puntata una nuova settimana di Ambrogio Curti con SentiQuesta ma la domanda che ci facciamo tutti la domanda sorge spontanea è Ambrogio che cosa ci fai ascoltare oggi e tutta la settimana in SentiQuesta bene Ambrogio ci risponde perché ci colleghiamo con lui o meglio sentiamo dalla sua viva voce che cosa questa settimana ci aspetta in SentiQuesta Sinceramente Annalisa 8 e 42 minuti lunedì 12 febbraio 331 7853 555 il numero al gruppo di descriveci per raccontarci un po' quello che state facendo dove state andando e un po' insomma che cosa vi aspettate da questa settimana che inizia con questo lunedì settimana di San Valentino dove andrete cosa farete con chi lo passerete chi sarà la vostra Valentina il vostro Valentino chi saranno ce lo chiediamo anche noi soprattutto se lo chiede la nostra producer Viola che è insistito e dalle 7 di stamattina mi dice oh di che è San Valentino oh di che è San Valentino perché deve però gli abbiamo detto attenzione perché lei sta cercando un fidanzato diciamolo l'appello è aperto a tutti abbiamo prima le candidature automuniti giovani ai tanti della zona nord-ovest di Milano diciamo questa anche geolocalizzati ma continua a insistere però gli abbiamo detto attenzione Viola che se lo trovi prima del 14 poi dopo devi fargli pure San Valentino quindi io direi lancia l'appello però poi ne riparlate dal 15 in poi che è meglio ok potremmo fare Viola potremmo fare una puntata apposta per una sorta di uomini e donne Viola Speed Date Viola Edition va bene ci ricorda Alberto al 331 7853555 che San Valentino è mercoledì ma sabato è anche l'ultimo giorno del carnevale non so se questo sia unito al fatto che tu cerchi un fidanzato Viola non lo so se abbiamo unito le due informazioni non credo potresti però trovarlo a carnevale carnevale è bello tu trovi uno che pensi sia un cowboy e poi invece scopri che è uno che lavora alla pescheria del supermercato però cosa c'entra può essere interessante va bene anzi meglio uno che lavora alla pescheria del supermercato piuttosto che un cowboy che va in giro e pensa di essere nel Montana se hai a grattosoglio dove te ne vai comunque mi abbiamo fatto ascoltare il Depeche Mode poi siamo tornati su Sanremo e continuiamo ancora con la musica di Sanremo la più secondo me sottovalutata del festival è stata se non sbaglio con lei che ha aperto la prima serata del festival la prima a cantare giovanissima bravissima e sicura di sé è stato bello vederla è emozionatissimo poi l'ha detto l'ha compensato ovviamente ma la cosa bella è che non si è visto ed è quello che fanno i grandi artisti nonostante appunto la giovane età magari sono le prime volte che sali le scalette che ti portano su un palco del genere ma quando sei su si sente solo la tua grande voce questa è Clara con Diamanti Grezzi Diamanti Grezzi Clara 8 e 48 minuti siamo quasi alla fine non prima di andare ancora a leggere qualche notizia dai giornali locali ad esempio Milano Repubblica Milano Piazzale Loreto un altro rinvio per il cantiere e percorso Buenos Aires non c'è ancora una data da una parte abbiamo letto appunto le diatribe intorno ai cantieri che su cui la procura sta aprendo dei fascicoli ma alcuni invece già chiusi per fortuna ad esempio come si chiamavano le Park Towers di via Crescenzago le indagini sono state chiuse e il GIPA ha chiarito quali siano le violazioni normative contestate ok e dall'altra parte invece i cantieri che ancora devono aprirsi non vedono la luce come ad esempio quello di Piazzare Loreto l'idea l'avete vista spesso nei rendering è quella di rifare completamente la piazza con una soprelevazione con una piazza pedonale all'interno con le vie che ci girano intorno ma nulla nulla si muove perché prima doveva partire all'inizio poi si era riprogrammata per aprile e maggio ma poi ancora dopo l'epifania ancora si è detto no verrà fatto più avanti nel mese di aprile e niente perché? perché il tutto il problema è la gestione del traffico però non so che la faccio facile però quando hai pensato di rifare Piazzare Loreto non hai pensato che forse c'era un problema su come chiudere le strade prima pensi a quello poi penso a cosa fare in mezzo al piazzale ma prima penso quando chiuderò Piazzare Loreto come lo gestisco il traffico fatemi un progetto adesso come lo facciamo però evidentemente come sempre io sono un po' troppo facilone e non so far sto mestiere infatti parlo alla radio invece di andare a fare l'amministratore locale c'è anche questo da dire è di Milano ci si fa sempre cantare e ballare con la sua musica lui è Mahmood 8 e 54 minuti lunedì 12 febbraio siamo arrivati alla fine di questa nuova puntata di Good Morning Milano sempre qui su Crystal Radio sempre con voi e vi ricordo che dopo di noi va in onda Ambrogio Curti con Senti Questa la musica internazionale e nazionale raccontata dalla sua preparatissima voce con aneddoti storie racconti che ruotano intorno al mondo della grandissima musica appunto sempre insieme con Ambrogio Curti noi ritorniamo domani ma vi ricordo sempre che comunque c'è il 331 78535555 per raccontarci tutto quello che volete o anche per scriverci ad esempio una battuta viola arrivata su di te che ti hanno detto se scegliere quello che vende il pesce o il cowboy Alberto dice beh ricorda che il cowboy è sempre un pistola e abbiate pazienza la settimana è lunga e si concluderà con i festeggiamenti di carnevale questo sabato tra parentesi ma le scuole rimangono chiuse per carnevale com'è che funziona non mi ricordo mai com'è sta storia no non è Pasqua cioè Pasqua chiudono ma carnevale non credo che vengano chiuse giusto? Noi appuntamento a domani che poi diciamo sabato ma molti stanno già festeggiando il carnevale perché il carnevale c'è stato sto weekend molti quindi sono già a casa oggi e domani per il carnevale a domani ciao ciao ciao